Gli sono toccati pure i saluti dell'assessore Peppe Virzi, avete capito che cravatta pescinda che ho tolto perché fa un po' più caldo rispetto a prima, adesso in studio è piacere di avere Don Liborio Palmeri, ciao Don Liborio, è sempre bello averti a disposizione, sei una fonte inesauribile di allegria e di condivisione obiettivamente. Tanto grazie di questo invito e buonasera a tutti. Come stai? Sono un po' affaticato dal lavoro, però è una fatica bellissima quella di lavorare e affaticarsi, ci sono fatiche ben diverse quindi voglio continuare a stare così. Poi insomma per fortuna i frutti vengono mangiati da sempre più persone, se ci limitiamo se in questo momento ci limitiamo appunto al lavoro che è egregiamente svolto per il Museo San Rocco, obiettivamente è una fatica ripagata poi dalla messe di persone che viene a visitare il San Rocco e soprattutto dei commenti positivi che poi ne derivano dalla visita. Che cosa hai combinato con il San Rocco Don Liborio? Intanto avere lo sguardo di alcuni che sono ai vertici del mondo dell'arte sia nella la chiesa sia anche nel mondo artistico non necessariamente ecclesiastico, per noi qui a Trapani per me certamente è una grande soddisfazione, proprio all'inizio di maggio abbiamo avuto il dottor Francesco Buranelli che attualmente è il presidente della commissione permanente per la tutela dei beni storico-artistici di tutta la Santa Sede, quindi è un uomo che gira il mondo a conoscere tutte le esperienze culturali e i beni artistici e storici della chiesa. Il fatto che sia venuto qui a Trapani dopo vent'anni a riaprire lo spazio del palazzo del seminario ci ha riempito di soddisfazione perché vuol dire che ha accolto la portata di questa esperienza che sotto il cappello del Museo San Rocco è diventata un'esperienza molto più complessa, molto più articolata e soprattutto una novità rispetto al panorama e anche alle esperienze precedenti, nel senso che qui a Trapani per la prima volta è una chiesa locale che si scommette su un progetto culturale e artistico, normalmente perché dietro la mia figura ovviamente c'è una chiesa, io non sono semplicemente come dire un elemento di punta perché c'è sempre chi si deve fare avanti nelle cose, perché nella storia diciamo così soprattutto del Novecento sono delle figure un po' isolate che prendono a cuore il rapporto con gli artisti oppure perché semplicemente nel loro ruolo, pensiamo a Paolo VI ovviamente essendo prima cardinale a Milano, poi Papa, le sue amicizie con gli artisti diventarono di fatto una collezione d'arte, il Carme che poi fu inaugurato nel 1973, ma c'era tutto il suo lavoro con gli artisti soprattutto in Francia, lui conosceva gli ambienti colti della Francia di Alain Couturier e altri insomma pensatori, poi altre esperienze in Italia erano state fatte soprattutto però per esempio dai gesuiti, quindi come un progetto di una compagnia, quindi di un ordine religioso, oppure per esempio il cardinale Lercaro perché attirava con la sua personalità tanti artisti e oggi abbiamo la fondazione Lercaro a Bologna. Una cosa paragonabile alla nostra ma non del tutto si potrebbe dire quella di un piccolo centro delle langhe, Rodello, dove un prete negli anni Sessanta si chiamava Mario Battaglino cominciò a radunare, ad accogliere degli artisti in questo paesino sperduto delle langhe, che allora le langhe non erano le langhe del dolcetto di Alba o del Barolo e ottenne veramente grandi risultati, al punto che oggi devo dire che molto opportunamente il sindaco di Rodello ha riaperto le porte agli artisti, io vado ogni anno a fare lì un workshop con loro, è nato un museo, il museo di Edalo Montali, però anche lì era una parrocchia. Noi partiamo come un progetto invece della diocesi, è un progetto che poi comprende anche l'archivio, la biblioteca e i veri progetti secondo me devono avere anche lunghi tempi, cioè ne siamo abituati nella nostra società, il progetto lo deve aver finito dopo, è come la costruzione di una casa o purtroppo anche quella di una chiesa, prima le chiese si costruivano in cento anni, oggi un cantiere deve finire in tre anni. Ecco, io non amo questo tipo di progettualità rapida, veloce, sono un po' diesel come... Sì, è un diesel che va veloce però perché in poco tempo... Il diesel non ha magari lo scatto immediato, però può raggiungere anche un'alta velocità. Senti, tutto nasce dall'archivio diocesano o no? Diciamo che sono tutti e tre come dire fratelli questi istituti culturali perché in realtà siamo nati proprio all'inizio paradossalmente proprio con l'arte contemporanea perché la prima inaugurazione avvenne nel 2004 e lì al palazzo del seminario avvenne allora appunto pure Buranelli, poi abbiamo inaugurato la biblioteca nel 2006 e poi lo spazio per i bambini nel 2009, nel 2011 aprivamo l'archivio, però ecco il MAB, noi lo chiamiamo così Museo, Archivio e Biblioteca procedono in qualche modo sempre insieme. Ora quest'ultimo passo è stato un ampliare proprio il Museo San Rocco mettendo insieme le due esperienze, quella iniziale di vent'anni fa al palazzo del seminario, quella che poi è intervenuta dopo dal 2013 in poi al centro storico di Trapani. Ora queste due realtà si sono perfettamente cucite insieme e diciamo così benedette anche da pezzi grossi dell'arte contemporanea perché sono venuti qui Rolando Bellini, Bruno Corà, personaggi che il mondo dell'arte conosce bene, sono i più grandi critici che abbiamo in questo momento in Italia, cioè Bruno Corà cura la Fondazione Alberto Burri per intenderci a Città di Castello, ha conosciuto Carla Cardi, è stato amico dei più grandi artisti del novecento italiano, ha curato le mostre di Cunellis per intenderci ed è venuto qui per Marco Papa, è venuto qui per la nostra esperienza e ha anche tanta voglia di tornare e questo per noi è chiaramente, lo dico per noi, non per me. Senti uno si aspetta da un sacerdote che ha diciamo la passione per l'arte, visto che appunto come tu stesso dici tutto nasce in ambito diocesano, ci si aspetterebbero le classiche, tra virgolette bellissime raffigurazioni artistiche legate al mondo della chiesa, invece no, Don Liborio avvia il museo d'arte contemporanea. Sì, questo è il mio carattere un po' strano effettivamente, anche ancora non sono riuscito diciamo a captare. Poi meno male allora che hai questo carattere. Ha un carattere diciamo incomprensibile a me stesso, sì perché io vengo da un'esperienza in cui ho bisogno sempre di capire le cose, bene o male avendo fatto teologia, conoscendo le scritture, come dire, le opere di arte sacra riesco a decodificarle, ma mi capitava di andare nei musei o visitare gallerie o mostre di arte contemporanea e di non capirne assolutamente nulla e questo veramente mi rendeva molto nervoso perché dicevo sicuramente, siccome sono tutte queste cose così, alla fine vedevo che c'erano degli elementi comuni, no, sono sbagliati proprio tutti loro oppure forse io non mi sono sintonizzato bene. Mi manca. Su questa cosa. E allora per capire cosa devi fare, incontrare persone, perché se tu non incontri le persone che fanno quelle cose e non cogli il loro movimento. L'interpretazione autentica dell'autore. L'interpretazione autentica, deve andare all'interpretazione autentica. Ed è qui che è nata la passione anche nell'incontro con gli artisti, conversazioni lunghissime, dialoghi, che hanno portato anche artisti importanti a Trapani, cioè e soprattutto, ecco, cosa ci abbiamo messo di nostro rispetto a quello che è il mondo dell'arte contemporanea. Basta entrare in un museo per dire, ma questo lo sapevo fare pure io, no? È la frase classica che si dice. Il fatto di aver introdotto, diciamo così, nel dialogo con gli artisti alcuni elementi importanti della nostra visione del mondo, della nostra visione delle cose e costringere in qualche modo anche gli artisti contemporanei a misurarsi su questo. Cioè, il mio assillo è quello di far mettere insieme sempre, da un punto di vista antropologico, diciamo così, l'uomo sapiens, l'uomo religiosus e l'uomo faber. E l'arte ha questa grande capacità di mettere insieme queste tre potenzialità dell'uomo. Cioè, l'uomo sapiens è quello che pensa, no? L'uomo religiosus è quello che cerca un senso all'esistenza ed è una costante antropologica. Cioè, c'è stata epoca ed essere umano, credente o non credente, che ha, che voglia, come dire, che pensa che esista giove o non so che cosa, che non si ponga il problema, ma che senso ha che sono al mondo. Questo è l'uomo religiosus. Ma c'è anche l'uomo faber, l'uomo che costruisce, che usa le sue mani, no? Per realizzare delle cose. Ora, secondo me, l'artista in qualche modo incarna queste tre realtà, perché un vero artista deve pensare, deve dare un senso a quello che fa e si deve vedere questo senso soprattutto a lunga onda e poi deve avere una grande capacità di costruire quello che pensa. Ed è una cosa affascinante per me, forse perché mi ne manca un po' qualcosa delle tre e quindi mi piace molto ecco vederlo realizzare e vederlo fare agli altri. Nel frattempo ti espandi come Museo d'Arte Contemporanea. No, non l'intendevo. Quello è malcomune. Infatti mi sono visto pure questo bottino per cercare di... Lo condividiamo. No, intendevo come Museo appunto... Sì, sì. Perché ormai il Museo San Rocco... Come Marlo, Marlo. Museo? Museo, archivio e biblioteca e il progetto generale. Poi il Museo San Rocco specificamente, che è una parte, tra l'altro, del Museo Diocesano, sono diverse articolazioni. Poi il Museo Diocesano c'è la parte storico-artistica, però c'è una bellissima mostra a Sant'Agostino e si pensa anche a un museo etno-antropologico. E questa sarebbe invece la sezione di arte contemporanea del Museo Diocesano, che da noi prende il nome di Museo San Rocco perché questa è la sede, diciamo, centrale al centro storico e poi questo luogo meraviglioso appunto che nel tempo abbiamo restaurato. Ora, questo museo con la sezione di arte contemporanea si espande perché può accogliere anche tutto il patrimonio che si trova conservato al terzo piano. del Palazzo del Seminario Vescovile, a Erice Casasanta, ed è una collezione permanente. E quindi abbiamo cifre pazzesche, cioè abbiamo 25 nazioni rappresentate, più di 300 opere, più di 200 artisti. Ovviamente tutto questo è avvenuto negli anni attraverso donazioni, attraverso anche eventi, mostre collettive, personali, che si sono realizzate. E poi abbiamo inaugurato anche un quarto piano, un quarto piano dove c'è addirittura una nuova sala espositiva temporanea, che abbiamo titolata Carla Cardi, e dove si trova attualmente una mostra di Marco Papa. E poi una sala per le conferenze, titolata Filippo Burgharello, un grande trapanese che invito a ricordare, uno storico. E poi ecco, un laboratorio artistico, una stanza dedicata a Maria Pia D'Amo, che è stata vice direttrice del nostro museo, dove per esempio i giovani, i ragazzi, le scuole potranno venire a fare esperienze. Perché è bello quando facciamo le mostre con gli artisti, che gli artisti anche si dedichino ai ragazzi, per intavolare con loro un dialogo, e quindi magari portare avanti dei progetti, per cui magari possono nascere piccole mostre con loro. Ma è sempre costruttivo anche dal punto di vista interiore, per un giovane. Hai inventato o stai promulgando la catechesi artistica, diciamo così? Beh, penso che da sempre la Chiesa l'ha fatto. Se l'ha fatto con Caravaggio nel 600, nella modalità in cui poteva farlo Caravaggio, che era incompreso ai suoi tempi, oggi tutti ci vantiamo di conoscere Caravaggio, ma Caravaggio era ostico da comprendere, tant'è che alcune sue opere furono rifiutate. Ecco, mi chiedo perché non dobbiamo farlo anche oggi, con i linguaggi che oggi l'uomo contemporaneo usa, che magari non sono quelli che anche all'interno della Chiesa conoscevamo, o a cui eravamo abituati. Questo è uno sforzo quindi che dobbiamo fare anche noi, noi preti, noi fedeli, all'interno della Chiesa. Spesso c'è una sorta di distanza, di difficoltà. Scetticismo. Scetticismo, sì. Io la capisco anche, perché poi quello che avevo io all'inizio, diciamo, ma questi che fanno? Poi, ecco, dialogando le cose si comprendono meglio. Io grazie a Dio ho avuto questa possibilità di incontrarlo. Nel frattempo abbiamo come territorio ospitato diversi artisti stranieri, che magari vogliono pure ritornare, mostre di un certo rispetto. Però tu ci dici a sottolineare una cosa, mi dicevi prima di registrare, noi non vogliamo fare concorrenza ai musei, quelli veri di arte contemporanea. Noi siamo una specie di laboratorio, che cosa? Sì, noi siamo un tra. Una fucina. Noi siamo un tra, siamo degli outsider. Ok. Perché non possiamo pretendere, e non è neanche giusto, non abbiamo gli strumenti, ecco, per le grandi istituzioni artistiche, anche del nostro paese o fuori dall'Italia. Però possiamo dare un grosso contributo, invece, dal punto di vista, ecco, intanto del talent, cioè di conoscere talenti, conoscere giovani, accoglierli. E io questo comincerei a farlo proprio dai primi anni, dalle scuole superiori. E poi abbiamo la possibilità anche di comunicare tanti valori e idee artistiche che non sempre gli artisti possiedono. Cioè io mi accorgo che quando si confrontano, per esempio, con la tradizione, cristiana, di duemila anni, rimangono affascinati se tu riesci un po' a comunicare il valore e la forza di quei contenuti. E poi ricordiamoci, e ci sono anche degli aspetti antropologici, che magari un'istituzione come, non so, il Bambo, il Maxi, non sono tenuti a cogliere. Ma se noi dobbiamo fare invece una mostra in un luogo come il San Rocco, che è anche un luogo di cult, eccetera, allora c'è bisogno di una serietà di impostazione che mette anche alla prova l'artista. Posso fare un esempio? Assolutamente sì. Ecco, anni fa, mi stavo preparando la tesi di laurea, e decisi di incontrare un artista che allora era proprio emergente, oggi è consacrato, è considerato uno degli artisti viventi più importanti, è un albanese che si chiama Adrian Pazzi, Paci, scritto. Allora andai al bar Elite di Milano, fissai un appuntamento con lui, e ricordo in mezzo al chiasso di quel bar, mentre il bicchiere... Cioè ti sei mostro da Travani proprio appositamente per andare a incontrare... Ah ok. Per andare a Milano, siamo incontrati, e abbiamo iniziato una chiacchierata sul suo fare artistico, sulle sue mostre, eccetera. E ad un certo punto io gli ho chiesto, ma tu com'è che hai cominciato? Mi devi dire da dove nasce veramente nel tuo cuore il desiderio di fare l'artista? E lì subito abbiamo toccato un argomento delicatissimo, perché il movente era praticamente il fatto che lui da bambino a sei anni aveva perduto il papà, che era un grande artista emergente dell'Albania degli anni settanta, Ferdinand, e che era precipitato con degli amici, con la sua macchina, dalle montagne di Scutari ed era morto. E lui aveva tutti questi disegni a carboncino, bellissimi tra l'altro, del papà, con cui la mamma lo faceva giocare praticamente a terra. Cioè lui è cresciuto praticamente vedendo queste immagini fatte da suo padre. Che bello, che bello. Sì, sì. Allora io ero veramente emozionato a sentire questo racconto, perché ad un certo punto gli ho detto, senti ma fammi vedere questi carboncini, questi disegni. E lui tira fuori il telefonino e c'era i disegni Baba, i disegni di suo padre. E lì c'erano dei volti bellissimi. E mi è venuto spontaneo dire, ma tu l'hai fatta mai una mostra con tuo padre? Una bi-personale con tuo padre? Tu hai appena superato l'età di tuo padre. Sarebbe bellissimo che mettesse a confronto, ora che anche tu sei un artista. E lì è veramente stato un momento bellissimo, anche di emozione. È calato un grande silenzio in questa conversazione, dove tutto era rumore, invece tra noi proprio silenzio. E lì io gli ho detto, guarda, se vuoi ho anche il posto dove fartela fare questa cosa. E lui ha fatto una mostra bellissima, Ferdinand, Adrian Pazzi, in cui ha messo a confronto alcuni suoi video, alcune sue opere in video, perché lui lavora soprattutto con i video, con i carboncini e i disegni di suo padre. Ne è venuta fuori una cosa, per certi versi, anche sconcertante. Il fatto cioè che lui, nei video, va a cercare i volti che suo padre... Se guardiamo i video di Adrian Pazzi e i disegni di suo padre, sembra che lui sia andato a scovare quei minatori, quegli operai che il padre andava a disegnare nelle viniere. L'imprinting proprio è rimasto. È impressionante. Ci sono addirittura delle immagini che si potrebbero benissimo sovrapporre. La cosa più bella è stata il fatto che lui ha detto, ma io questa mostra non la posso fare in altri luoghi, perché non la capirebbero. Cioè, lo show business, il mainstream dell'arte, non capirebbe questa mostra. E infatti lui l'ha fatta soltanto qui e non l'ha voluta fare in nessun altro posto, se non a casa sua, a Scutari, dove ha aperto uno spazio per gli artisti in Albania, Art House, e io sono andato anche lì a trovarlo. È stata una cosa bellissima. Questa è stata sicuramente una delle esperienze... Vedi cosa mi trasmetti Don Liborio con questi racconti, con la passione e l'amore che hai messo e continui a mettere in questa opera in divenire, che è il Museo d'Arte Contemporanea San Rocco, con le sue derivazioni presenti e future che ci saranno. Gli altri musei bellissimi, scegli tu uno qualsiasi, dal Louvre al Max appunto, al MoMA, fai tu, sono dei templi della bellezza dell'arte, freddi però. Cioè tu vai là, rispetti le regole, ti puoi avvicinare, c'è il cordone, il silenzio dove puoi parlare, ma freddezza, cioè il distacco tra l'arte e l'essere umano. Tu invece hai creato una fusione, dove ciò che emerge è proprio un sentimento di amore, verso l'arte, ma verso gli artisti, e dagli artisti verso poi gli astanti, chi va a visitare. Ecco, l'idea dell'artista e poi si presta a fare il laboratorio mi fa pensare proprio a questo connubio. Il nodo è solo uno, io sono un prete, non sono... Poi sono diventato, posso essere diventato, non so se lo sono veramente, però certamente ho studiato, sono uno storico dell'arte, ho appreso anche alcuni meccanismi della museologia, ovviamente devi imparare alcune cose, altrimenti non le puoi portare avanti, una certa scientificità la devi avere, ovviamente. Però il cuore, diciamo di tutto il discorso, fondamentalmente è il mio ministero, questo ci tengo a dirlo, perché qualcuno mi dice, ma che senso ha che tu fai il prete in questo modo? Ma io mi chiedo, ma che senso ha il modo anche di chiunque altro di fare quello che fa, se non va, ecco, dietro a se stesso, a quello che è la sua aspirazione, il suo cuore? Cioè, io credo che conti la verità di noi stessi. Cioè, per me, questo è una forma, un modo per evangelizzare. D'altra parte, è facile fare, come dire, mostre con gli artisti morti del passato, non hanno niente da dire. Mentre confrontarti con un artista di oggi, con le sue domande, anche dure nei confronti della fede, nei confronti della Chiesa, questa è una scommessa importante e che mi mette in discussione, ma anche mi fa sentire vivo, parliamoci chiaro, perché alla fine la fede non può essere qualcosa di stantio, di stanco nella nostra vita. deve essere qualcosa che ti fa arrivare all'ultimo respiro della tua esistenza, contento di aver vissuto e consapevole che dopo quel respiro ce ne sarà un altro molto più felice. Se non hai questo, penso che la vita è veramente fabbita. L'arte tocca le corde della spiritualità, quindi è un modo assolutamente legittimo e bello per evangelizzare, intanto creare amore, farlo sentire. Poi l'evangelizzazione, mica io posso far venire la fede a qualcuno, cioè io posso, non la faccio venire a nessuno la fede, però se già attraverso lo sguardo e l'ammirazione di un'opera d'arte e il dialogo magari con l'artista che l'ha realizzata, chi lo sta guardando quell'opera, sta parlando, riesce a sentire dentro qualcosa, già questo è un modo per metterlo in contatto con l'altro, con il divino. Perché la fede è uno squarcio che si apre nel cuore delle persone, a volte ci sono delle difficoltà perché questo avvenga. Ecco, l'arte secondo me ha questo potere, come altre cose, come incontrare una persona e innamorarsi, può avere pure questo potenziale, ovviamente, ma non ne facciamo mancare nessuno, più ce n'è meglio è. Tra l'altro in una società così arida e così stanca, così afflitta, così addolorata, penso che sarebbe bene anche parlare di queste cose. Ma sei soddisfatto delle visite al Museo San Rocco? Intanto non è un mio problema, nel senso che io non mi pongo il problema di quanti verranno, quanti non verranno. Ti posso dire, l'altra sera ho incontrato tre famiglie che venivano da una parrocchia, li ho fatti entrare dentro questa installazione della Divina Tenebra, di Marco Papa, che quindi non è neanche una mostra tradizionale, quindi non si vedono dei quadri, si entra in uno spazio, fatto tutto... Questa sensoriale. Sensoriale, fatto tutto di carta e c'erano delle persone di una parrocchia del quartiere Sant'Alberto, Rione Palme, che sono venute a fare un incontro con me al museo e siamo entrati là dentro e ne siamo usciti diversi da come eravamo entrati. Quindi la qualità per me è importante, infatti noi facciamo quasi sempre visite guidate, cioè per noi ecco la visione del museo classica, come dicevi tu, che entri, vedi il quadro, lo dice anche Candischi nel suo libro Lo spirituale dell'arte e entri nel museo e dici che è carino, che è bellino e poi esce esattamente come sei entrato, perché in realtà dentro di te non è successo nulla. Ecco, secondo me un museo come il San Rocco, luoghi come il San Rocco invece devono far accadere qualcosa, almeno debbono provocare. Allora a me fa piacere per esempio accompagnare i ragazzi dal piano terra all'ultimo piano oppure far entrare in questa installazione. Diamo un appuntamento a chi ci sta seguendo, perché così come me penso che in tanti che stiamo seguendo hanno voglia di seguirti in questo percorso. Diamo un appuntamento. Beh, gli appuntamenti noi intanto basta telefonare al numero del museo e al numero mio è meglio è meglio a volte fare come dire gli appuntamenti delle prenotazioni in modo che ci possa essere io o qualcuno che possa guidare. Poi abbiamo gli orari per esempio al seminario apriamo negli orari della biblioteca in modo da garantire almeno quando la biblioteca è aperta anche l'apertura di quegli spazi che sono enormi molto belli e questo avviene fondamentalmente il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19 quindi chi vuole andare a vedere questi spazi trova la bibliotecaria chiede si fa aprire e viene condotto a visitare questi spazi. Nel tempo cercheremo anche di dare più informazioni di dare... Per quanto riguarda il San Rocco normalmente apriamo nei fine settimana quindi venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 20 ma ora con l'estate grazie ai volontari perché ci tengo a dire che tutto questo avviene attraverso i volontari non c'è gente pagata quindi a volte qualcuno magari si arrabbia perché è successo qualcosa Che tipo di volontari? Sono volontari che fanno un'esperienza al museo e rimangono lì attratti abbiamo persone che quest'estate sono fatti che so fino a mezzanotte il sabato e la domenica dalle 20 a mezzanotte a far entrare turisti a far visitare a guidare e sono volontari come anche tutta la parte burocratica pensiamo le pulizie oppure anche il basto della lampadina non posso pensare a tutto io ovviamente e ci sono dei volontari alcuni pensionati fino a quando si protrarrà la mostra di Marco Papa? la mostra di Marco Papa abbiamo deciso di portarla un po' avanti perché siccome siamo all'interno del ventennale ecco dello spazio del seminario e del decennale del San Rocco quindi questo spazio lo teniamo occupato dalla mostra di Marco Papa quindi fino a novembre sarà possibile vederla nel frattempo cercheremo di realizzare degli eventi che possano valorizzarla farla conoscere meglio far conoscere meglio quest'artista apprezzato da Bruno Corà da Rolando Bellini come ho detto prima Marco Papa per i trapanesi vi ricordo che magari in quel periodo eravamo tutti molto distratti si è preso di altre cose pandemia c'era il lockdown a Piazza Vittorio venne realizzata una installazione il Cristo crocefisso se non ricordo il Cristo nudo bianco che è innalzato a 20 metri di altezza che non siamo andati a vedere perché non si poteva uscire noi di Telesudo allora abbiamo fatto appunto le riprese ma parliamo di questo artista menziono questa perché tra l'altro quest'opera si trova al Museo San Rocco quest'opera è visitabile oggi fa parte proprio del percorso del San Rocco e probabilmente molti di noi anche tanti trapanesi allora non capirono questa installazione perché qualcuno diceva perché noi siamo sempre ossessionati dall'idea del vedere mentre l'arte contemporanea più che vedere è un accadere un accadere con un significato allora Marco Papa diceva la gruosa rappresenta il lavoro il lavoro è crucifisso in questo momento perché noi siamo tutti fermi e d'altra parte quando morì Cristo sulla croce non è che tutti uscirono per andarla a vedere e quindi il senso pieno della crucifissione si rendeva proprio c'è pure un altro svuoto non serve per forza vederlo ma tu sai che c'è esatto e poi sono poco religioso come dobbiamo fare ma tu sei un uomo religioso perché ce l'hai come giusto come speranze come qualcosa da approfondire ancora di più a me dispiace però io ho un tempo limitato in questa trasmissione ma non solo devo venire a immergermi nel museo San Rocco vediamo di darci delle degli appuntamenti cadenzati per raccontare meglio questo mondo bellissimo anche alchemico se vogliamo dove uno si può trasformare davvero entri in una maniera e ne esci migliorato con piacere e mi piace grazie Doliborio un bellissimo viaggio emozionante grazie a chi ci ha visto e ascoltato grazie storie che toccano il cuore davvero e complimenti per il lavoro che sta assieme ai volontari che ha fatto bene a menzionare che sta portando avanti per la città e per l'umanità certamente grazie parliamo anche di questo al res pubblico vedete non è solo politica le solite chiacchiere il solito bla bla poi arrivano momenti in cui grazie a umanità come quella di Doliborio Valmeri riusciamo a spaziare a toccare anche dimensioni intangibili provando a comprenderle senza però riuscirci certamente grazie a tutti voi questa è stata res pubblica Sicilia chiama Europa